Senza memoria non c'è futuro e io credo che l'unità rappresenti una memoria da salvaguardare per garantire anche a un pezzo della sinistra di cui noi siamo parte un futuro molto ma molto importante. Buonasera a tutti, naturalmente io devo per una questione di colleganza e anche di amicizia con tantissimi colleghi e amici dell'unità partire da giornalista con la mia tutta e piena solidarietà per i colleghi perché tutti quanti viviamo un momento difficilissimo nell'editoria italiana ma loro mi sembra che stiano pagando un prezzo superiore a quello dovuto e soprattutto assolutamente inadeguato alla storia che rappresentano per cui con tutto il mio cuore e la memoria dei tanti anni di lavoro fatti insieme auguro il meglio. Siamo qui questa sera, un dibattito al quale io mi occupo di Roma da moltissimi anni lavoro al Corriere della Sera e la farò brevissima perché i moderatori non devono parlare a lungo però due parole di contesto. Oggi Roma ha assistito a un grandissimo evento internazionale di fatto l'apertura del semestre europeo di presidenza dell'Unione con protagonista di questa vicenda ovviamente il Presidente del Consiglio che è anche il segretario del Partito Democratico e naturalmente questo è avvenuto a Roma, sede della firma dei trattati che portano il nome di questa città e naturalmente tutto questo ha un collegamento stretto sul ruolo di questa città qui noi parliamo di grandi città e ci ritroviamo a Roma, grande capitale europea nel pieno di una grande questione riguardo al suo futuro. Io mi darei questo schema, forse per eleganza lascerei, a proposito è stato appena rieletto Vice Presidente del Parlamento Europeo vale la pena di risalutare David Sassoli e direi che forse David per una questione di eleganza lo farei parlare alla fine dei primi interventi proprio come padrone di casa e abbiamo naturalmente come voi già sapete Paolo Buzzetti che è Presidente nazionale dell'Associazione dei Costruttori ed Ili, sottolinea nazionale perché ovviamente ci porterà una visione che è romana ma non solo e naturalmente Lorenzo Tagliavanti che è direttore della sezione romana, della realtà romana di quella importante realtà che è il Consiglio nazionale del CNA che riguarda anche le piccole e medie imprese e naturalmente l'artigianato tutta la realtà che non è macroindustriale, che è il tessuto connettivo principale di questa città. Due cifre, oggi il Sindaco Marino ha presentato il piano di rientro annunciando due cose che vale la pena di ricordare brevemente perché rappresenteranno poi la materia della nostra discussione un piano di rientro da ben 440 milioni di recupero interno ma quello che ha chiesto Marino è un bisogno almeno, dice, di 240 milioni di euro perché Roma non è una città come le altre, è la capitale e noi non possiamo decidere quale deve essere il meccanismo per riconoscere degli extracostri ma una cifra l'abbiamo individuata in almeno 110 milioni. Questo vuol dire che il Sindaco Marino ha con molta onestà, gli verrà attribuita onestà intellettuale, annunciato che lui non riuscirà senza questi strumenti a immaginare una ripresa di Roma, ma in particolare lui ha citato la questione del trasporto pubblico e della pulizia della città che mi sembra un'ammissione di un problema che viene molto sentito. Io curo questa rubrica quotidiana di lettere con i lettori sul Corriere della Sera e posso testimoniare che ci sono questi tre o quattro argomenti che sono quasi, non dico un mantra, ma sono un'ossessione quotidiana dei nostri cittadini. Io in ordine alfabetico comincerei proprio con Buzzetti e per chiedergli una cosa abbastanza ovvia per chi fa il mio lavoro, però forse è bene affrontarlo, ovvero in questa città si continua a rappresentare, vogliamo uscire dalla cortesia diplomatica, il Sindaco Marino come o lui vuole rappresentarsi come una specie di nemico dei poteri forti, uno che si oppone alle grandi strutture, nella fattispecie anche a un mondo che voi stessi potete rappresentare. Io volevo capire se in una grande capitale europea, che in questo momento è la capitale d'Europa, se tutto questo è vero e se lei vede, Presidente, la possibilità di una ripresa, senza che questo poi si trasformi in un massacro del territorio che voi stessi non volete più realizzare. Ecco, se mi vuoi rispondere anche alla luce di quello che ho esposto. Bene, buonasera a tutti. Mi sembra che ci sia una grande occasione finalmente, senza alcun ottimismo di maniera, perché dobbiamo vedere quello che succede. Le imprese, gli artigiani sono ridotti in una condizione difficilissima. Voglio dire semplicemente che abbiamo perso in Italia dall'inizio di questa crisi 740.000 posti nell'edilizia, hanno chiuso 10.000 aziende, per la gran parte medio-piccole, e quindi è un tessuto industriale che sta andando veramente al disastro. L'ottimismo è dato da questi giorni quello che sta avvenendo in Europa, e poi siamo resi conto tutti che finalmente è finito, diciamo, quell'asse franco-tedesco, perché la Francia ha comunque reagito negativamente a quel tipo di politica di totale austerità senza crescita che il nostro Presidente del Consiglio ha ben esposto in questi giorni. Io devo dire che ho avuto la soddisfazione, questo va detto, di sentir rispondere alla pari i tedeschi e farli osservare. Parlo della Germania politica, si intende, non del cittadino tedesco, e di far osservare che la stessa Germania aveva sforato quei famosi parametri di rigidità e di austerità, e lo ha fatto più volte in questi anni, finché avendo il controllo della situazione della Banca Centrale Europea, impone e continua a imporre un'austerità che ha dimostrato di non riuscire a portare i risultati. Quindi, finalmente, l'Italia è centrale e ha una possibilità di appoggio notevole nella Francia, in tutti i paesi meridionali, a in qualche modo dell'Inghilterra, e speriamo che questo dibattito porti a che cosa? Non a non perseguire più quelle politiche di rigore, di bilancio, di correttezza, di trasparenza che ci mancano e che dobbiamo fare, ma che ci aiuti invece sulla via anche della crescita, quindi riuscendo a ritrovare alcune risorse a disposizione, per che cosa? Beh, innanzitutto per quella manutenzione del nostro paese, delle nostre città, che è la prima cosa. Una cosa evidente a tutti, in questi anni di crisi le nostre città sono andate giù in maniera terribile, basta parlare delle famose buche per le strade, non si fa più di manutenzione di niente, ma quello che è grave è che i nostri figli rischiano nelle scuole, che stanno veramente andando giù a pezzi, al di là del dissesto idrogeologico, della sismica, e poi abbiamo appunto le sondazioni, abbiamo, lo dico senza alcuna retorica, i morti ogni anno nel periodo delle piogge in ottunno, abbiamo 4 miliardi all'anno che spendiamo per intervenire a posteriori sui danni che il dissesto del sistema idrico, della non cura più dei bacini idrici, delle sponde dei fiumi e via dicendo, stanno creando nel nostro paese con queste piogge eccessive. E interveniamo con la possibilità di sforare quei patti che, scusate, si potrebbero sforare prima intervenendo in maniera preventiva. Allora qui c'è, di positivo cosa, la speranza che questo cambio di politica, ecco perché è fondamentale l'Europa, ecco perché, dico a Davide, che è lì che dobbiamo vincere la prima battaglia per le nostre città e per il nostro paese, nell'ottenere la giusta politica, naturalmente perseguendo, ricorrendo ai conti pubblici, attenzione e trasparenza, ma finalmente rimettendo in gioco quelle risorse che Stati Uniti, Inghilterra, ma anche la stessa Francia e Germania hanno usato in questi anni per continuare, per esempio, a fare manutenzione, grande programma di manutenzione delle scuole e un grande programma di manutenzione delle nostre città, proprio la manutenzione, la prima grande infrastruttura di cui il nostro paese ha bisogno. Bene, in questo senso la speranza che accada qualcosa con questi allentamenti è dietro le porte. Si stanno preparando due grandi piani, uno per le scuole e uno per il discesso idrogeologico e speriamo che avvengano. L'altro grande fatto per venire a parlare delle città è quello della riqualificazione delle nostre città. Si parla continuamente di consumo del suolo invece di ritornare e intervenire sull'esistente facendo cosa? Beh, facendo riqualificazione non significa solo il singolo edificio che ormai avendo magari 70 anni ha bisogno di una manutenzione strutturale ma di rifare gli impianti per esempio in maniera moderna per ridurre l'emissione di anidride carbonica ce lo chiede l'Europa che non ha solo bisogno di una manutenzione del singolo edificio ma significa ridisegnare le nostre città consentendo di creare quegli spazi nei quali si possano creare nuove attività anche dei giovani, attività di impiego. Per esempio è famoso il distretto dei Pannolini a New York dove in un quartiere che non creava più occupazione era diventato quasi mezzo disabitato che cosa hanno fatto? Hanno creato le condizioni favorevoli ristrutturando per prima le scuole le famiglie si sono riavvicinate per portare i figli a scuola ed è nato un nuovo quartiere cosiddetto dei Pannolini dove sono sviluppate una serie di attività nuove artistiche, professionali allora tutto questo è un'utopia? In realtà non è così perché mentre noi parliamo la Francia è riuscita a fare 400 interventi in questi anni in 400 quartieri degradati delle loro città con una direzione pubblica statale e sono riusciti a introdurre interventi importanti di riqualificazione del tessuto imprenditoriale per far questo che cosa serve però? Da una parte serve una cassetta degli attrezzi che sia costituita da alcune norme fiscali e procedurali che permettono al capitale privato di ritornare e rintervenire ma ancora una volta ci sono molte risorse pubbliche europee che noi fino ad oggi non siamo riusciti a spendere ad esempio ci sono 3 miliardi per i prossimi 7 anni che potremmo impiegare 3 miliardi sono tanti nelle nostre città nell'intervenire con programmi di riqualificazione pensate a città come Marsiglia ma la stessa Parigi dove sono intervenuti e magari in un secondo passaggio entreremo meglio nei meccanismi interventi di aiuto alle famiglie che vogliono ristrutturare casa che vogliono comprare casa qualcosa ben inteso stiamo facendo anche in Italia ma è troppo poco perché non abbiamo risorse non abbiamo soldi non abbiamo regole siamo ancora a una legge urbanistica del 1942 quando c'era la guerra non abbiamo norme fiscali moderne quindi occorre reagire però è su questo che voglio concludere su Roma Roma voglio dire è praticamente la più bella città del mondo diceva Ippolito Nievo se vuoi distinguere l'oro dall'ottone come pietra di paragone scegli Roma quando uno parla di qualsiasi città del mondo se ci mette Roma in mezzo si crea un paragone preciso abbiamo bellezze storiche adesso guardate quanti turisti anche per il film è la grande bellezza perché Roma è sempre al centro con il papa del mondo abbiamo una città fantastica ma non ci dobbiamo arrendere ci dobbiamo anche dare da fare noi qui stiamo andando verso una depressione continua dovuta alle difficoltà del lavoro alla situazione qui bisogna saper reagire allora voglio dire la stagione che nacque con i sindaci con l'elezione diretta dei sindaci senza adesso mitizzare il passato verso il giubileo quegli anni eccetera però lì c'era un progetto per Roma giusto sbagliato migliorabile però c'era allora io quello che dico qui bisogna ritornare ad avere un grande progetto della città nelle sue tante vocazioni Roma ha la fortuna del turismo ha la fortuna di mille attività economiche ha la fortuna di una grande industria artigiana ha la fortuna del commercio ma quante cose ci abbiamo del turismo prima di tutto ovviamente allora dico perché non riusciamo a ripensare la città con questa attenzione europea e qui c'è il punto del perché importante Europa perché solo appartenendo a questa identità europea possiamo dare un futuro ai nostri figli perché in realtà tutti noi andando in giro per il mondo vediamo i cinesi vediamo gli stessi americani vediamo nelle altre città che c'è dinamismo voglia di fare i giovani si alzano la mattina presto studiano come pazzi vogliono fare beh noi ci stiamo addormentando bisogna che ci ridiamo degli obiettivi importanti da perseguire e che proviamo a perseguirli perché le risorse in realtà ce le abbiamo tutte ce le abbiamo diciamo nelle infinite cose che sappiamo e ce le abbiamo anche come tasso di crescita possibile legato al fatto che se riusciamo a battere un po' io voglio dire con grande sana concretezza delle lentezze burocratiche della corruzione delle inefficienze che abbiamo abbiamo un tasso di crescita ancora di fronte a noi altissimo è come i bambini che il medico dice che può ha quella potenziale altezza e poi magari non la raggiunge perché non mangia bene non fa sport ecco se noi facciamo